Io sono Sonia Gantoni e sono la Presidente di AMSA, l'azienda milanese Servizi Ambientali. Siamo l'azienda che da più di cent'anni tiene pulita questa città, libera dai rifiuti e gestisce tutto il ciclo integrato di valorizzazione dei rifiuti. Abbiamo avviato la nuova raccolta differenziata dell'umido domestico a partire dal novembre del 2012 in un primo quarto della città. Stiamo parlando di più di 300 mila abitanti residenti, la parte della città interessata è la parte a sud ovest, i quartieri 5, 6, 7 e 1 della città. La raccolta differenziata sta andando molto bene, nel senso che ci possiamo permettere di considerare, se non consolidato, comunque abbastanza certo questo dato che è di conforto, ovvero sia riusciamo a intercettare attraverso entrambe le raccolte che sono integrate, sia quella dell'umido domestica che quello dell'umido da utenze speciali, ristoranti, ottomercato, mense, eccetera, eccetera, riusciamo a intercettare 1,80 kg per abitante ogni settimana. Quindi molto di più rispetto all'obiettivo che prudenzialmente ci eravamo dati nel progetto e un ottimo risultato anche guardando alle altre esperienze che anche da più tempo sono in atto nella nostra provincia, in regione, in Italia. Anche dal punto di vista qualitativo la raccolta sta andando proprio molto bene, nel senso che abbiamo fatto anche analisi merceologiche e su 9 campioni 7 si collocano nella classe di qualità migliore e 1 che vuol dire meno del 2,5% di impurezza, quindi un ottimo risultato.